Mi ha mandato un messaggio questo ragazzo, tutto entusiasta Luca, Luca, ho conosciuto questa ragazza, è meravigliosa, è una ragazza fantastica Wow, bellissimo, beh, allora raccontano un po' come è andata la serata No, ma quale serata? Non c'è stata nessuna serata In che senso? Cioè, vi siete parlati, vi siete visti, dove vi siete conosciuti? No, 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 abbiamo parlato soltanto qualche volta Però è fantastica, ha qualcosa di speciale questa ragazza E, bene, quindi quando uscite? No, mi ha detto che assolutamente non vuole uscire con me Ok, che problemi hai amico? Che cosa hai in testa? Beh, in realtà il motivo per cui questo ragazzo è rimasto così tanto colpito da questa ragazza è proprio il fatto che lei gli abbia detto di no Però gli ha detto di no con delle condizioni particolari Innanzitutto, questa ragazza è fidanzata Probabilmente la sua storia non sta andando molto bene Forse si sta lasciando Ma comunque è fidanzata E quando questo ragazzo gli ha detto Vediamoci, usciamo, andiamo a cena insieme Lì ha detto, guarda, no, mi farebbe anche piacere Perché mi interessi, te lo dico sinceramente Sembra una persona interessante Ma no, mi dispiace Perché io sono fidanzata E io queste cose non le faccio Boom Ha preso mille punti negli occhi di questo ragazzo Perché gli uomini ragionano in questa maniera È giusto? È sbagliato? Non lo so Semplicemente so che gli uomini ragionano in questa maniera Nel momento in cui vedono Che una ragazza ha dei sani principi E nonostante sia interessata Non è disposta a venire a patti con i propri valori Wow Perché che cosa scatta nella mente di un uomo? Scatta questo pensiero Se mai questa dovesse diventare la mia ragazza Io sarei al sicuro Lei non mi tradirebbe Lei sarebbe sempre onesta con me Perché nessuno è stupido Noi sappiamo che comunque le altre persone ci piacciono Siamo attratti dagli altri esseri umani È normale Però quando un uomo vede E ritengo che questo valga anche per le donne Quando un uomo vede Che quella ragazza Non molla Non cede È un osso duro Beh Capisce che quella persona Ha un valore delle qualità Che oggi pochissimi hanno